Dopo la chiusura di tutti i bar, anche il disagio per le macchinette guaste, la pausa caffè per medici e personale sanitario, e non solo, degli ospedali della rete di SST Pavia, sta diventando un miraggio. La denuncia arriva dal sindacato Fialz e si riferisce in particolare all'ospedale di Broni Stradella, dove venerdiscorso ha chiuso l'ultimo dei bar presenti nei nosocomi della rete. A Voghera, Vigevano, Mortara, Varzi e a Punto Stradella, dove anche il distributore automatico, a quanto pare, sarebbe finito fuori uso. Allo stress per il lavoro degli ultimi anni si aggiunge anche questo disagio, dice il sindacato, ma la questione appare più profonda, perché se il gestore del bar di Voghera aveva deciso di lasciare per andare in pensione, quelli del bar di Vigevano, chiuso a metà gennaio, Mortara, Stradella e Varzi sarebbero stati in pratica sfrattati dall'azienda sanitaria. ASST ha però ribadito l'impegno di emettere un nuovo bando per l'affidamento dei bar a un unico gestore dopo che il primo è andato deserto. Una scelta considerata da alcuni troppo rigida se si pensa che i gestori uscenti stavano operando in proroga da anni e che una precedente gara di appalto, circa quattro anni fa, era stata annullata dopo una serie di vicende. Secondo Patrizia Sturini della CGL di Pavia, il problema della scadenza dell'affidamento dei bar era noto da tempo, servirebbe capire invece come mai il nuovo bando sia andato deserto e se le condizioni poste non fossero peggiorative. Certo è, ha spiegato ancora Sturini, che si crea un disservizio all'interno degli ospedali per i lavoratori, i pazienti e i parenti dei degenti ha proseguito. Inoltre la chiusura dei bar comporta per alcuni dipendenti la perdita del posto di lavoro. I lavoratori, ha proseguito la CGL, ci segnalano che la chiusura del bar crea una situazione di disagio soprattutto per i pazienti che vi accedevano dopo il digiuno per l'esecuzione di esami specifici o per i pazienti diabetici ai quali serve un punto di ristoro. Così dunque i sindacati che stanno monitorando con attenzione questo strano caso.